anche perché non vorrei che poi fosse rubata la scena a questa iniziativa lodevole e meritoria però una considerazione su Teron me la consentirà, Cristina la devo fare perché in questi giorni assistiamo a una costante deteramanizzazione insomma i commissariamenti che arrivano sono emblematici che altri su altri tavoli stiano gestendo e stiano decidendo le sorti di questo capoluogo che è francamente avvilente, io adesso non entrerò nelle questioni d'altri per ragioni anche di opportunità però devo dire che il fatto che esistano delle condizioni di commissariamento testimonia come ci sia una fase patologica della politica e il fatto che questa fase patologica investa in larga misura i partiti di centrodestra e ulteriore testimonianza di come ci sia bisogno di una candidatura di libertà come questa io non voglio aggiungere altro ma a questo credo che sia necessario stigmatizzarlo perché la condizione di libertà e di coraggio che abbiamo messo in campo debba essere recepita dalla nostra comunità grazie che dire parlare dopo di te Cristina e dopo dopo